Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi registrerò Life in Letters Challenge. Iniziamo subito. A. Come amica. Sono amica di tutti quelli che riuscirò a conoscere, quelli che conosco già sono amica di tutti, anche di voi dall'altra parte dello schermo. B. Come buona. Mi dicono tutti che sono una persona buona e quindi sono buona e basta. A. Come creativa. Sono una ragazza molto creativa, infatti lavoro il fimo, mi piace cantare, ho un sacco di hobby, quindi sono una persona creativissima. D. Come dolce. Sono una persona molto dolce da quello che anche ovviamente mi dicono gli altri e voglio tante coccole, quindi sono dolce. A. Come energica. Sono sempre piena di energia, anche a sera, ho voglia di uscire, quindi sono sempre dappertutto, con gli amici, da sola. A. Come fiera. Sono fiera di me stessa in qualche modo, perché sono riuscita a crescere anche con questo canale YouTube e sono fiera di me stessa, di quello che ho fatto. G. Come Giulia. È il mio nome, insomma. Cos'altro ci poteva stare con G? A. Come... ho altre domande a cui rispondere, perché con l'H non c'è assolutamente niente. I. Come indipendente. Sì, non sono ancora maggiorenne, ma credo di essere una persona abbastanza indipendente, anche se magari l'unica cosa che mi manca per essere indipendente è una macchina, appunto. L. Come dinatica. Sono una persona al cui carattere cambia sempre, 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 veramente, sempre. M. Come migliore. Appunto, come fiera, sono migliorata anche grazie al canale YouTube, grazie alle persone a cui ho conosciuto, quindi grazie a voi, grazie a tutti quelli che fanno parte della mia vita. Grazie. N. Come novità. Adoro le novità, anche se certe volte mi sconfusiono un po' i piani, quindi sono un po' depressa a certe volte, tipo, mio Dio, come faccio adesso? O. Come onesta. Sono una persona assolutamente onesta, non c'è niente da dire, odio quelli che non sono onesti con me e io comunque con loro sono onesta. P. Come protagonista. D'altronde chi è che non lo vuole essere? Io amo essere la protagonista non di una situazione, ma nel senso tipo su un palco a cantare. Q. Come qualificata. Penso di essere una persona abbastanza qualificata per ogni singola cosa che si può fare in questo mondo. Mi riesco comunque ad arrangiare in qualsiasi modo. R. Come responsabile. Sono responsabile di me stessa e anche abbastanza degli altri. So prendere in mano la situazione e credo di essere abbastanza una persona responsabile. S. Come stagista. In questo momento appunto faccio uno staging nell'hotel e quindi mi sento molto una stagista ovviamente. T. Come tranquilla. Sono stata sempre da piccola, anche sono sempre stata una persona tranquilla, una bambina tranquilla e lo sono anche tuttora, anche se sono molto energica. Q. Come unica. Tutte le persone che mi conoscono e tutte le persone che conosco io in ogni caso, tutti siamo unici, quindi anche io sono unica. V. Come vi amo ragazzi. Io non so come dirvelo, anche se non siamo un canale con miliardi di iscritti. Io vi amo dal primo all'ultimo, dalla prima iscrizione all'ultima. Vi amo tutti. Vi amo. Basta. Z. Come tutella. Perché non sono una bella ragazza, mi odio con tutta me stessa. No, scherzo. Non mi odio, però non penso di essere tutta questa gran figaggine. Z. Sono single, quindi sarò zitta alla vita, ma vi voglio bene lo stesso. Allora, questo era il mio video. Spero vi sia piaciuto. Se no, lasciatemi un commentino o un mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi alla mia pagina Facebook, fate tutto quello che volete, iscrivetevi al canale. Vi mando tanti baci. Prossimo video. Ciao! Ciao!